In questo mondo in cambiamento le coordinate stesse, i punti di riferimento sono in continuo movimento e noi non possiamo come famiglia, come persone, navigare a vista. Noi dobbiamo avere alleati che siano non solo nel pubblico ma soprattutto anche nel privato che ci aiutino a fare le scelte giuste al momento giusto. Ogni generazione aggiunge anni di vita rispetto a quelle precedenti ma deve aggiungere anche soluzioni nuove per fare in modo che il proprio futuro sia migliore rispetto a quelle precedenti se non vuole tornare indietro. Bisogna pensarci per tempo e bisogna fare già oggi delle scelte che inglobino il benessere futuro in quello che poi oggi decidiamo di fare.